Sono felice, emozionato, contentissimo, questi ragazzi ai quali ho dato fiducia, perché io mi prendo il merito di aver dato fiducia chiaramente averli allenati, però questi sono ragazzi speciali e oggi lo hanno dimostrato ancora di più, ci siamo presi una grande soddisfazione. Sono ragazzi bravi, di talento e poi sono innamorati della maglia azzurra. È scattata secondo me la consapevolezza di essere un grande gruppo, di essere forti. Certo abbiamo giocato con squadre, abbiamo battuto i campioni olimpici, abbiamo battuto i campioni del mondo.